Barbara De Rossi, protagonista del Bacio insieme a Francesco Branchetti che ne è anche il regista e la storia di un incontro tra un uomo e una donna, da una diffidenza iniziale alle prime confidenze ad una complicità intrisa di emozione. Tutto questo avviene in un bosco, su una panchina, luogo di sosta in cui ci si concede del tempo per parlare, per conoscersi, per esplorarsi. Da qui si gode della miglior vista all'interno di percorsi che non sono solo panoramici, ma anche introspettivi. Un viaggio interiore nel cuore umano, in quelle che sono poi tutte le sfaccettature. Quest'uomo e questa donna si incontrano, non si conoscono, vivono due, come sempre noi descriviamo in questa storia, due perfette infelicità. Nel momento in cui riescono ad incontrarsi, ad avere questa attrazione dell'anima, ad entrare in un terreno particolare, che è quello dell'innamoramento e quello dell'incontro magico tra due persone, riescono anche a raccontarsi le proprie fragilità, le paure, arrivarci in un modo o nell'altro, proprio in virtù del rapporto magico che si instaura tra i due. E quindi è veramente un'esplorazione, come diceva lei prima, del cuore umano e di quelle che possono essere le... sono probabilmente caratteristiche e sensazioni nelle quali lo spettatore può riconoscersi, perché tutti abbiamo delle paure, tutti abbiamo delle fragilità, tutti magari viviamo anche solo una piccola parte della nostra vita che non è soddisfacente, che non è quella che vorremmo. La vita è fatta di sogni, di incontri, di scelte sbagliate, di tutto questo e quindi noi la portiamo in scena con la certezza che qualcosa di questo spettacolo appartiene a qualcuno. Non ho nessuna certezza, solo incertezze. Oh sì, certo. Se vai in ospedale il momento sarà passato, il momento è unico, se vai in ospedale tutto tutto sarà passato. E poi cosa? Morire in un paese lontano, vuole risplendere, risorgere in un paese lontano. Tu non hai niente, ti lo giuro non hai niente, se vai in ospedale ti verrà qualcosa. E il fatto di andare in ospedale che ti rende dei malati, il fatto di stare in saluti, sui divani, davanti alla televisione che ti rende differenti. E il fatto di decidere di così ardentemente compagnia che ci rende soli, sei il demonio. Io sono un uomo con il costume d'orso, intrattengo i clienti alla reception, posso sapere con che cosa intrattengo te? Ah, ti intrattengo con un pizzico d'amore. Non è possibile. Francesco Branchetti, nonostante la storia metta in risalto anche degli aspetti diciamo drammatici, però il messaggio è di assoluta positività, di speranza o sbaglio? Non sbaglio affatto, nel senso che questi sentimenti, questo innamoramento, questo candore, questa grazia, in questo spettacolo, si mostra in parte come possano essere dei sentimenti magari tenuti in secondo piano e che magari tirati però fuori, quanto possano far rinascere magari due percorsi che non hanno iniziato, diciamo col piede giusto. È uno spettacolo profondamente romantico e credo che sia profondamente positivo, anche giusto il termine che ha detto lei, che fa di questa, io la chiamo così, terra di mezzo della panchina e del bosco, un luogo speciale dove possono accadere delle cose perché i personaggi si sono predisposti in una certa maniera. A volte le cose succedono perché uno si predispone in una certa maniera. forse il momento storico, diciamo, attuale è un momento storico che ci ha un pochino inrigidito in una negatività un po' a 360 gradi, ecco. Forse riscoprire magari un pochettino di capacità di buttarsi, di credere, ecco. Forse magari riapre nuove strade, anche parlo della vita privata, della vita sentimentale, ma non solo di quella, ecco.